io non mi sento fra un giro assolutamente intelligente e povenissimo comunque quando parlo dovete applaudire che mi sto già in allargamento quando parlo io qualsiasi cosa io dica dovete applaudire è automatica la cosa non so se siete nuove capite così, quello che dico dico dovete applaudire una volta in teatro c'è un biglietto mi sa una volta in teatro usava la clac lei si è portata a voi la clac cioè scusa Aldo hai scartato già il regalo? no beh quelli sono le mie applauso allora